Si parte per un nuovo viaggio sulle Dolomiti Bellunesi e parto con un gruppo di marchigiani simpaticissimi, come si è trovata molto bene. Prima tappa, una sossa nella città di Treviso e dall'isola Piscatoria, che è un isolotto in mezzo a tutti i canali che caratterizzano Treviso, dove c'è il mercato del pesce e intorno ci sono statue di pesci o addirittura di sirene fioranti dalle acque, attraverso le sue arcate rustiche e i tanti scorci bellissimi, che sembrano scorci di vedute dipinte, siamo arrivati nella piazza centrale di Treviso, dominata dal palazzo dei signori. Ma quello che ha attirato un po' tutti è stata la Fontana delle Tette. La Fontana delle Tette è un'antica fontana cinquecentesca, di cui rimane poco, una statua, un monca, ma è stata ricostruita in una piazzetta interna. Naturalmente tutto il gruppo è andato a farsi fotografare vicino alla Fontana delle Tette. Il luogo dove abbiamo soggiornato era a Falcade nella valle del Biois e dominata dal Focobon, un gruppo di rocce che fanno parte delle palle di San Martino e traversata dal torrente Biois e ricca di praterie verdissime di fiori, un posto veramente ostiamante. Di lì ogni giorno facevamo una gita diversa. Questo è stato il bello di questo viaggio. Il primo giorno siamo andati al lago di Alleghe. Poiché io ero già stata qui, avevo fatto il giro di tutto il lago a piedi, ho preferito salire con la funicolare verso il Monte Civetta che domina il lago di Alleghe costituito dal Cordevole, un fiume torrentizio che fu bloccato da una specie di frana e determinò questo lago. E di lassù, sul Civetta, abbiamo fatto passeggiate fra praterie, abettaie e fiori di montagna. Il giorno dopo siamo andati attraverso il passo di Vallis alla foresta di Panaveggio, dove naturalmente abbiamo fatto tante foto di gruppo come questa. Ci siamo incamminati per ponti che attraversavano torrenti e forre, spumeggianti. Siamo saliti nella foresta, siamo discesi lungo il fiume dei torrenti. Insomma ci siamo goduti proprio questo paesaggio alpino meraviglioso. Qui abbiamo visto tanti fiori particolari e soprattutto l'abete rosso, che è un albero che viene chiamato l'albero della risonanza, che veniva utilizzato dai liutai di un tempo per costruire gli strumenti musicali. I migliori violini venivano fatti con questo legno. Abbiamo anche incontrato tanti asini selvatici, vicino ai quali si sono fotografati i bambini. E in un grandissimo recinto, dove vivono semi liberi, abbiamo visto un gruppo di cervi dominato dal cervo maschio, il cervo giovane, le tante cerve e i piccoli, quelli che noi chiamiamo i bambi e anche i fusoni. I fusoni che sono i maschi un po' più cresciuti, che hanno già le piccole cornache molto vellutate che spuntano sulla sommità del capo. E di qui siamo saliti al passo Rolle. Al passo Rolle è dominato dalle pale di San Martino e caratterizzato dal monumento a Gino Bartali, che fu appunto uno dei più impavidi scalatori di questo luogo. Il giorno successivo invece siamo andati a Sottoguda. Sottoguda è un piccolo borgo molto bello, uno dei più bei borghi italiani, montani, ricco di casette caratteristiche, con pitture, con composizioni di legna, con figure che rappresentano la vita di un tempo, scorci di torrenti. Di qui si parte per raggiungere Malga Ciappela e la si può raggiungere a piedi attraverso i serrai di Sottoguda, che sono dei piccoli canyons, oppure con un trenino caratteristico. Da Malga Ciappela si sale con la funicolare a 2002 e anche a 2003. Noi siamo saliti fin lassù per vederci appunto i ghiacciai, dove c'era la città del ghiaccio della Prima Guerra Mondiale ed è stato ricostruito, costruito anzi un museo con tutti i reperti relativi alla Prima Guerra Mondiale. Molto bello da visitare e molto panoramico. Abbiamo qui fatto anche delle belle passeggiate nel nostro paese, Falcade, e una di queste è stata la passeggiata alle coste di Falcade, con una guida che ci ha illustrato fiori e piante. Un giorno siamo andati invece a Moena, in Trentino Alto Adige, passando dal passo di San Pellegrino, proprio lì vicino, abbiamo raggiunto questa perra delle Dolmiti, questo bel paese attraversato da un grande torrente lungo il quale si snodano tante suggestive abitazioni in legno, ma una delle cose più belle sono le piazzette di Moena e i suoi negozi caratteristici. Al passo di San Pellegrino abbiamo visto invece malghe, animali al pascolo. Un'altra gita è stata una piccola chiesa, la chiesa di San Simone, una delle più antiche, insieme a Roccapietore, è quella di Roccapietore, e qui ci sono nella chiesa di San Simone, ci sono degli affreschi attribuiti a Paris Bordone, che è un pittore del Cinquecento, e abbiamo visitato anche un centro per l'allevamento dei rapaci, ed ecco il padrone di questo centro, con Ade, una piccola Barbagiani, femmina bianca, che ubbidisce i suoi ordini, ecco questa bellissima aquila reale invece. Un altro giorno abbiamo fatto una passeggiata al paese di Papa Luciani, che si trova vicino a Falcade, Canale d'Agordo, è un paese bellissimo, verde, pieno di fiori, pieni di case antiche, di quei fienili ristrutturati, e poi di qui abbiamo raggiunto anche Agordo, che dal nome è tutta la valle principale, che è la valle Gordina, che è un tipico paese veneto invece, un tipico paese con case venete di mezza montagna, prealpine. Il ritorno è venuto attraverso la valle del Prosecco, peccato che fosse mattina, perché c'era del Prosecco meraviglioso da assaggiare, ma di mattina presto non tutti siamo molto propensi. E poi abbiamo visitato Conigliano, col suo bel duomo dipinto, e con la scenografica piazza dedicata a Cima da Conigliano, pittore cinquecentesco che nacque qui. E qui, nella piazza di Cima, le sfingi, con le prominenti tette. Abbiamo cominciato con le tette, l'insegna dell'abbondanza, abbiamo finito con le tette, è stato un viaggio veramente bello, ricco, abbondante, di esperienze positive in mezzo alla natura e di tanta allegria. Un bellissimo viaggio.